Parliamo oggi con Dimitra Teocaris, autrice di una grande stagione nello sci alpinismo, esordi in Coppa del Mondo, ai mondiali, poi anche ultimamente abbiamo visto la Marmoleda. Soddisfatta Dimitra? Soddisfatta molto per gli ultimi avvenimenti, le ultime gare sia qua in regione che sono andate molto bene, ero in una situazione di forma particolarmente buona e anche le circostanze diciamo hanno permesso la buona riuscita di questi ultimi appuntamenti. Per quanto riguarda invece la Coppa del Mondo e i mondiali, sì, molte soddisfazioni e alcune diciamo non sono andate esattamente come mi aspettavo, però pazienza, è un'esperienza che andava fatta e speriamo nelle prossime edizioni di poter raggiungere qualche risultato migliore. Ma ti aspettavi di andare subito ai mondiali in questa stagione, era un obiettivo diciamo a dicembre? Sì, era l'obiettivo dell'anno, essere convocata e da lì ovviamente fare del mio meglio. Come è nata la passione per lo sci alpinismo? È nata diciamo successivamente alla mia prima stagione di corse in montagna e da lì quando ti innamori delle montagne non le molli neanche d'inverno e quindi lo sci alpinismo era il mezzo per viverle anche nella stagione invernale con la neve. Poi lì mi sono avvicinata dapprima grazie a mio zio che mi ha portata una volta a fare sci alpinismo. In realtà è stata un po' traumatica come esperienza ma poi dopo qualche anno diciamo sono riuscita a sorpassare. Sport faticoso. Sport faticoso. È molto diverso diciamo lo sci alpinismo praticato a livello amatoriale, turismo quindi l'attrezzatura è più pesante, i movimenti sono completamente diversi anche come vivi la gita. Invece lo sci alpinismo da gara chiaramente hai un'attrezzatura che è completamente diversa e ti permette di vivere e anche fare molta meno fatica rispetto al turismo per cui diciamo mi ha consentito di appassionarmi più al mondo delle gare che a quello dell'escursionismo sugli sci. Tu consiglieresti quindi alle ragazze di praticare questa disciplina? Sì, sì sì, senz'altro. Nonostante la fatica? Nonostante la fatica, è parte del gioco. Senti, il prossimo anno diventi senior? Senior ufficiale. Quindi cosa cambierà? Che cosa ti aspetti dalla prossima stagione? Eh, sarà una battaglia un po' più dura per essere convocata in nazionale, ci proverò chiaramente e speriamo appunto di riuscire a migliorare e raggiungere livelli alti che mi consentano di continuare ad essere presente anche a livello internazionale in questo sport. Bocca al lupo, Dimitra. Grazie.